Capitolo 56 Una mattina, circa una settimana dopo il fidanzamento di Bingley con Jane, mentre egli si trovava con le signore di casa seduto nel tinello, il rumore di una carrozza attrasse la loro attenzione. Corsa alla finestra, videro un tiro a quattro che percorreva il prato davanti a casa. Era troppo presto per delle visite e del resto l'equipaggio non era di quelli del vicinato. I cavalli erano di posta e sia la carrozza che la livrea dei domestici che la precedevano non erano loro familiari. Siccome però era certo che stava arrivando qualcuno, Bingley indusse subito la signora Bennet a evitare la reclusione a cui sarebbero stati obbligati da un intruso e ad uscire con lui per una passeggiata nel boschetto. Andati quei due, rimasero le altre tre a far congetture, benché con scarsa soddisfazione, finché non fu spalancata la porta per lasciare entrare la visita. Era Lady Catherine de Bourgh. Erano naturalmente disposte tutte e tre a una sorpresa, ma il loro stupore superò ogni aspettativa e benché la dama fosse assolutamente sconosciuta alla signora Bennet e Catherine, la loro melaviglia fu ancora inferiore a quella che provò Elizabeth. Ella entrò nella stanza con un'aria più sgarbata del solito. Non rispose che con un leggero cenno del capo al saluto di Elizabeth si sedette senza dire una parola. All'entrata di sua signoria Elizabeth ne aveva detto il nome alla mamma, sebbene non ci fosse stata richiesta di presentazione. Tutta sballordita, sebbene illusingatissima di avere una visitatrice di dare importanza, la signora Bennet l'accorse con estrema cortesia. La può essere rimasta seduta impettita per un momento in silenzio e la disse molto seccamente ad Elizabeth. «Spero che stia bene, signorina Bennet. Questa signora è sua madre, immagino». Elizabeth le rispose asciutta di sì. «E quella, suppongo, sarà una delle sue sorelle». «Sì, eccellenza», soce la signora Bennet, felice di parlare con una lady. «È la mia penultima. L'ultima mia figliola si è appena sposata. E la mia maggiore è a spasso per il giardino con un giovane che ritengo entrerà presto a far parte della famiglia». «Che giardino piccolo avete?» comentò Lady Catherine dopo un breve silenzio. «Non è nulla in confronto a Rosings, certo, eccellenza, ma le assicuro che è molto più grande di quello di Sir William Lucas». «Deve essere una stanza scomoda per le sere d'estate questa. Le finestre sono esposte in pieno apponente». La signora Bennet l'assicurò che non ci stavano mai dopo il pranzo e poi soggiunse. «Posso prendere la libertà di chiedere a vostra signoria se ha lasciato in buona saluti con U.G. Collins?» «Sì, ottima, li ho veduti l'altra sera». Elizabeth si aspettava ora che vesse a consegnarle una lettera da parte di Charlotte, unico plausibile motivo di quella sua visita, ma non comparve nessuna lettera, ed ella si sentì più confusa che mai. Con gran gentilezza la signora Bennet invitò a sua signoria a prendere qualche rinfresco, ma Lady Catherine, ma molto risolutamente e con poca creanza, rifiutò di assaggiare alcunché. Poi alzandosi disse ad Elizabeth «Signorina Bennet, mi par d'aver visto, da una parte del vostro prato, una specie di macchia abbastanza graziosa. Mi piacerebbe di farvi un giro, se vuol favorirmi della sua compagnia». «Vai, cara!» esclamò la mamma, «e fa vedere a sua signoria i diversi viottoli. Credo che il chiuschetto le piacerà». Elizabeth obbedì e, preso di corsa l'ombrellino in camera sua, accompagnò da basso la sua nobile ospite. Quando attraversarono l'anticamera, Lady Catherine aperse gli usci della sala da pranzo e del salotto, che dopo una rapida occhiata dichiarò essere stanze discrete, e proseguì. Nella carrozza che era rimasta intanto davanti alla porta, Elizabeth scorse la dama di compagnia. Avanzarono in silenzio per il vialetto inghiaiato che conduceva alla macchia. Elizabeth era fermamente decisa a non fare alcun sforzo per conversare con una donna che si mostrava più arrogante e antipatica del solito. «Come ha fatto a trovarla simile a sua nipote?» si domandava guardandola in viso. Entrate che furono nella macchia, Lady Catherine incominciò così. «Signorina Bennet, lei non può aver dubbi nell'indovinare la ragione del mio viaggio sin qui. Il suo cuore, la sua coscienza, le devono dire perché sono venuta». Elizabeth si mostrò sinceramente stupita. «Mi spiace, ma si sbaglia, signora. Non sono riuscita finora a spiegarmi che debbo l'onore di vederla qui». «Signorina Bennet, lei dovrebbe sapere che con me non si scherza. Per quanto in sincera le garbi dimostrarsi, sappia però che io non farò altrettanto. Sono sempre stata apprezzata per la sincerità, la franchezza del mio carattere, in una questione di così capitale importanza come l'attuale. Non intendo di partirmi dalla mia linea di condotta». Orson due giorni mi è giunta all'orecchio una notizia quanto mai allarmante. Mi è stato detto che non soltanto sua sorella era in procinto di maritarsi in modo assai vantaggioso, ma che lei, che la signorina Elizabeth Bennet si sarebbe con tutta probabilità unita subito dopo il matrimonio a mio nipote. «A mia nipote, dico, il signor Darcy!» Benché io sappia che si deve trattare di una scandalosa menzogna, benché non voglia fare a lui il torto di ammettere la cosa come possibile. «Ho deciso immediatamente di venire qui per renderle noti i miei sentimenti. Se ella ha creduto possibile che fosse vero», rispose Elizabeth avampando di stupore e di sdegno, «mi meraviglio che si sia preso il fastidio di fare tanta strada. Che cosa si proponeva con questo, vossignoria? Di insistere immediatamente perché tale notizia venisse pubblicamente smentita?» «Il fatto che ella sia venuta a Longborn a trovare me e la mia famiglia. Sembrerà piuttosto una conferma, seppure una voce del genere sussiste. Se pretende dunque di essere all'oscuro? Non è stata fatta circolare a bella posta da loro? Non sa che questa voce sia diffusa fra gli estranei? Non ho mai sentito che lo fosse. E può allo stesso modo dichiarare che è priva di fondamento? Io non pretendo di gareggiare in franchezza con vossignoria. Ella è libera di farmi delle domande alle quali io posso permettermi di non rispondere. Questo non lo sopporterò, signorina Bennet. Esigo che mi si risponda. Le ha fatto mio nipote una proposta di matrimonio? Oh, signoria, lo ha dichiarato impossibile. Così dovrebbe essere. Così deve essere fin tanto che gli rimane uso di ragione. Ma le sue arti allettatrici possono in un momento di infatuazione avergli fatto dimenticare il rispetto che deve a se stesso e alla sua famiglia. Può darsi che lei lo abbia addescato. Se l'ho fatto, sarò l'ultima persona a confessarlo. Signorina Bennet, sa lei chi sono io? Non sono abituata con questo linguaggio. Sono quasi la parente più prossima che gli abbia al mondo e ho il diritto di conoscere le sue faccende più intime. Ma ella non ha il diritto di conoscere le mie, né un contegno come il suo mi indurrà mai ad essere esplicita. Non mi fraintenda. Questo matrimonio, al quale lei ha la presunzione di aspirare, non potrà mai avere luogo. No, mai. Il signor Dar si è fidanzato a mia figlia. Che ha ora da aggiungere? Questo soltanto? Che se lo è, lei non può avere motivo di supporre che faccia mai una proposta di matrimonio. Ed i cattini esitò un istante poi riprese. Il loro fidanzamento è di una natura particolare. Sono stati destinati un all'altra sin dall'infanzia. Era un desiderio caro al cuore di sua madre, non meno che al mio. Erano ancora nelle loro culle che noi facevamo già progetti di sposarli. Ed ora, nel momento in cui le aspirazioni delle due sorelle dovrebbero avverarsi col loro matrimonio, esserne impediti da una giovane di ceto inferiore, socialmente insignificante e totalmente strane alla famiglia, non ha dunque considerazione per il desiderio degli amici di lui, per il suo tacito fidanzamento quella signorina de Borg. È dunque sorda ogni sentimento di convenienza sociale, di delicatezza. Ma mi ha sentito dire che fin dalle sue prime ore di vita egli fu destinato a sua cugina? Sì, e già prima l'avevo dito. Ma che può importarmene? Non c'è altra obiezione al mio matrimonio con suo nipote. Non sarò certo il sapere che sua madre e sua zia speravano che sposasse la signorina de Borg a trattenermi dal farlo. Loro hanno fatto tutto quanto era il loro potere con l'auspicarne il matrimonio. Il suo compimento dipendeva da altri. Se il signor Darsi non si ritiene vincolato a sua cugina né dall'onore né dall'inclinazione, perché non dovrebbe fare un'altra scelta? E se quella scelta fossi proprio io, perché non dovrei accettarlo? Perché l'onore, il decoro, la prudenza, lo stesso interesse glielo impediscono. Sì, signorina Bennet, l'interesse, giacché non speri di cattivarsi la stima della sua famiglia o dei suoi amici, se vuol far di testa sua contro i desideri di tutti. Lei sarà criticata, avvilita, disprezzata da tutti i suoi congiunti. La vostra unione sarà oggetto di scandalo. Il suo nome non sarà mai pronunziato da nessuno di noi. Questi sono gravi disgrazie. Ma la moglie del signor Darsi dovrebbe trarre dal suo stato tali motivi di felicità che, nel complesso, non dovrebbe aver ragione di lagnarsene. Ostinata caparbia! Mi vergogno per lei. È questa la sua gratitudine per le cortesie che le ho usato dalla primavera scorsa. Non mi si deve dunque nulla per quelle? Sediamoci. Lei deve capire, signorina Bennet, che io sono venuta qui fermamente decisa a raggiungere il mio scopo. Ne me ne lascerò dissuadere. Non sono assuefatta ad arrendermi ai capricci di chi che sia. Non sono abituata a sopportare delusioni. Ciò renderà più che mai pietosa l'attuale situazione di vostra signoria, ma su di me non sortirà alcun effetto. Non mi importa. Mi ascolti in silenzio. Mia figlia e mio nipote sono fatti l'uno per l'altro, discendono entrambi per parte materna dallo stesso nobile lignaggio e da parte di padre da famiglie rispettabili, onorate, antiche, anche se non titolate. D'ambo le parti c'è un patrimonio cospicuo. Essi sono destinati l'una all'altra dalla voce di ogni membro delle rispettive famiglie. E che cosa li dividerà? L'improvvisa pretesa di una ragazza di oscura famiglia senza relazioni, senza mezzi? È sopportabile tutto ciò? No, non può, non deve essere. Se lei avesse coscienza del suo bene, non desidererebbe abbandonare l'ambiente in cui è cresciuta? Non immaginerei di lasciare quell'ambiente sposando sua nipote. Egli è un gentiluomo. Io sono figlia di un gentiluomo. Fino a cui siamo pari. È vero. Lei è figlia di un gentiluomo. Ma chi era sua madre? Chi sono i suoi zili? le sue zie. Non crede che ignori la loro condizione sociale. Qualunque possa essere la mia parentela, se sua nipote non ci trova da ridire, a lei non gliene deve importare. Mi dica una volta per tutte, è fidanzata con lui o no? Pur di non dare una soddisfazione a Lady Catherine, Elizabeth aveva preferito non rispondere a quella domanda. Tuttavia, dopo un istante di riflessione, non seppe a meno di rispondere. Non lo sono! Lady Catherine sembrò soddisfatta. Ed è disposta a promettermi di non assumere mai questa specie di impegno? Non intendo farle nessuna promessa del genere. Signorina Bennet, sono sorpresa, scandalizzata. Credevo di trovare lei una giovane più ragionevole. Ma non si lusinghi col credere che io possa tirarmi indietro. Non me ne andrò di qui finché non mi avrà dato l'assicurazione che esigo. Stia certa che da me non l'avrà mai. Non mi lascerò intimidire a fare una cosa tanto insensata. Monsignoria vuole che il signor Dar si sposi sua figlia. Forse che col dare la parola che lei desidera il loro matrimonio sarebbe reso più probabile? Ammesso che egli mi sia devoto, forse che rispingendo io la sua mano egli potrebbe desiderare di offrirla a sua cugina? Mi permetta di dirle, Lady Catherine, che gli argomenti con i quali ella ha sostenuto con questa sua strampalata richiesta, sono altrettanto futili quanto vuoti di senso. Monsignoria si è completamente ingannata sul suo carattere, si è creduto di farmi cedere con simili argomenti. Quanto sua nipote possa approvare questa intromissione negli affari suoi? Io non so, ma ella non ha certamente il diritto di ingerirsi nei miei. Devo perciò pregarla di non fare più importunarmi a questo proposito. Piano piano, per favore, non ho ancora finito. A tutte le obiezioni che già ho sollevato, ne ho da aggiungere ancora una. Non mi sono ignoti i particolari della vergognosa fuga della sua sorella minore. So tutto. Che se il giovanotto l'ha sposata, qual è stato un affare rimediato all'ultimo momento a spese di suo padre e di suo zio? E vorrebbe che una ragata del genere diventasse cognata di mio nipote? Vorrebbe che il marito di Costei, figlio del maggiordomo del suo defunto padre, divenisse suo cognato? Dio del cielo, che cosa le viene in mente? Dovranno le ombre di Pemberley essere profanate in tal modo? Ora non le rimarrà più nulla da aggiungere, rispose Elisabetta indignata. Ormai mi ha insultata in tutti i modi possibili. La prego di lasciarmi tornare a casa. E così dicendo, si alzò in piedi. Lady Catherine le imitò e tornarono indietro. Sua signoria era fuori bonda. Dunque lei non tiene in alcun conto l'onore alla reputazione di mio nipote. Spietata egoista. Non capisce che, legandosi a lei, si disonorerà agli occhi di tutti. Lady Catherine, io non ho altro da aggiungere. Lei conosce i miei sentimenti. Allora è decisa a sposarlo. Non ho detto questo. Sono soltanto decisa ad agire nel modo che, a mio giudizio, mi darà la felicità, senza riguardo a lei o a chiunque mi sia totalmente estraneo. Va bene. Si rifiuta di accontentarmi, allora. Si rifiuta di obbedire alla voce del dovere, dell'onore, della gratitudine. È deciso a rovinarlo nell'opinione di tutti i suoi amici ed esporlo all'udibrio del mondo. Né dovere, né onore, né gratitudine possono nulla su di me in questa circostanza. Il mio matrimonio col signor Darsi non violerebbe nessuno di questi doveri. E quanto al rancore della sua famiglia, allo sdegno del mondo, se sposandomi egli provocassene i suoi parenti di risentimento, la cosa mi lascerebbe assolutamente fredda. E la gente del resto avrebbe troppo buonsenso per tenere loro bordone. E questa è la sua vera opinione, la sua ultima decisione. Benissimo. Ora so come comportarmi. Non si immagini, signorina Bennet, che la mia ambizione sarà soddisfatta. Ero venuta a permettere alla prova. Avevo sperato di trovarla ragionevole. Ma andrò a fondo della cosa, ne stia certa. Lady Catherine continuò a parlare in questo tono finché giunsero davanti allo sportello della carrozza. Allora, voltandosi di scatto, soggiunse. Non mi ha comiato da lei, signorina Bennet. Non presenti i miei ossechi a sua madre. Lei non merita un'attenzione simile. Sono profondamente offesa. Elisabeth non rispose nulla e, senza tentare di convincere sua signoria a tornare a casa, vi entrò ella stessa in silenzio, mentre saliva le scale udì il rumore della carrozza che si allontanava. La madre le corse incontro impaziente sulla porta del salottino per chiederle come mai Lady Catherine non fosse rientrata a riposarsi. Ha preferito di no. Ha voluto andare via. È una gran bella donna ed è stata strepitosamente gentile a venirci a far visita. Mi pare che sia venuta soltanto per dici che Colleen stanno bene. Forse sarà stata diretta da qualche parte e così, passando per merito, non avrà pensato che avrebbe fatto bene a venirti a trovare. Non aveva mica nulla di speciale da dirti, vero, Lizzie? Elisabeth dovette lasciarsi indurre a questo punto a dire una piccola bugia, poiché era impossibile, confessa l'argomento di quella conversazione. Capitolo 57 Non fu cosa facile per Elisabeth superare il turbamento in cui quella strana visita l'aveva gettata, né per molte ore le fu possibile distoglierne il pensiero. Era chiaro che Lady Catherine si era proprio presa il fastidio di quel viaggio da Rosings con l'unico scopo di rompere il suo supposto fidanzamento col signor Darcy. Illuminato proposito, in verità. Ma quel che Elisabeth era incapace di immaginare era da che cosa potesse aver avuto origine la notizia del loro fidanzamento finché le venne in mente che il fatto che lei fosse l'intimo amico di Bingley e lei la sorella di Jane era stato sufficiente a suggerire l'idea nel momento in cui l'attesa di un matrimonio rendeva tutti impazienti di un secondo. A lei stessa non era sfuggito che il matrimonio della sorella li avrebbe più che mai avvicinati e i suoi vicini di Villa Lucas, poiché era giunta la conclusione che la notizia avesse raggiunto Lady Catherine tramite le notizie da loro trasmessa ai Collins, avevano già dato per certo e imminente ciò che lei era apparsa soltanto possibile in un futuro non lontano. Nel rimuginare le espressioni usate da Lady Catherine non poteva meno di provare tuttavia un certo disagio per le eventuali conseguenze a cui una persistente ingerenza da parte sua avrebbe portato. Da quanto aveva detto della sua determinazione a impedire il matrimonio, Elisabetta dedusse che quella dovesse star meditando di rivolgersi al nipote e non osava pronunciarsi sul modo in cui egli avrebbe accolto una simile esposizione dei mali derivanti da un'unione con lei. Non sapeva bene se no tal punto fosse affezionata sua zia né quanto si rimettesse al suo giudizio, ma era naturale sopporre che di sua signoria avesse un concetto assai più elevato del suo ed era certo che, prospettandogli i guai di un matrimonio con una donna ai cui intimi congiunti erano tanto al di sotto dei suoi propri, ella lo avrebbe attaccato nel punto più debole. Forse quegli stessi argomenti che ad Elisabetta erano sembrati vani e ridicoli, a lui, col suo concetto particolare delle eredità, sarebbero apparsi solidamente fondati e pieni di buonsenso. Se in passato era stato incerto sul da farsi, cosa che pareva essersi spesso verificata, il consiglio e la preghiera di una parente così stretta avrebbero potuto risolvergli ogni dubbio e deciderlo senz'altro a godere di tutta la felicità che la sua emacollata dignità gli avrebbe elargito. In tal caso non sarebbe tornato mai più. Forse Lady Catherine era andata a trovarlo passando per la capitale e allora egli avrebbe rinunciato all'impegno preso con Bingley di ritornare a Netherfield. Se fra qualche giorno, pertanto, farà pervenire al suo amico qualche giustificazione per non avere mantenuto la promessa, soggiunse Elisabetta, saprò come interpretarlo. Allora rinuncerò ad ogni speranza, ad ogni desiderio di costanza da parte sua. Se si accontenta di rimpiangermi quando avrebbe potuto tenere la mia mano e il mio affetto, io imparerò presto a non rimpiangere più del tutto. La sorpresa del resto della famiglia nel sentire che era venuto in visita fu enorme, ma ebbero la bontà di spiegarsela con lo stesso genere di supposizioni che avevano appagato la curiosità della signora Bennet e ad Elisabetta venne così risparmiato una buona dose di croccio. La mattina di poi, mentre scendeva le scale, le mosse incontro al babbo che usciva allora dalla sua biblioteca con una lettera in mano. «Lizzi? Stavo per venirti a cercare. Viene nel mio studio». Ella lo seguì e la curiosità di sapere che avesse da dirle si accrebbe con le supposizioni che la cosa fosse in qualche modo legata alla lettera che teneva in mano. Le venne in mente di un tratto che la missiva potesse venire da Lady Catherine e si sentì mancare all'idea di tutte le spiegazioni che ne sarebbero derivate. seguì suo padre fino al caminetto e si sedettero entrambi. Egli le disse allora «Stamane ho ricevuto una lettera che mi ha oltremodo stupito. Siccome riguarda soprattutto te, è bene che tu ne conosca il contenuto. Non sapevo finora di avere due figlie sull'orlo del matrimonio. Permetti che ti facci i miei allegramenti per l'importante conquista compiuta». Elisabetta si fece di porpura all'improvviso pensiero che la lettera fosse del nipote anziché della zia e non sapeva bene se essere più contenta che gli venisse una volta solo una spiegazione risentita perché la lettera non era stata piuttosto indirizzata a lei. Il babbo continuò «Veddo che hai già capito di che si tratta. Le ragazze sono dotate di straordinaria intuizione in faccende del genere, ma credo di poter sfidare persino alla tua sagaccia nello scoprire il nome del tuo ammiratore. Questa lettera viene dal signor Collins, dal signor Collins, e che ha da dire lui? Cosa è molto a proposito, si capisce. Comincia con le congratulazioni per le prossime nozze della mia figlia maggiore, delle quali è stato informato e a quanto pare da qualcuno dei Lucas buoni e pettegoli. Ma non voglio farti morire di impazienza a collegerti quanto dice su questo argomento. Ciò che ti riguarda eccolo qui. Dopo averle adunque presentato le sincere congratulazioni della signora Collins e mie per questo lieto evento, mi permetta ora di accennare brevemente ad un altro, del quale siamo stati eduti dalla stessa autorevole fonte. Si presume che sua figlia Elizabeth non porterà più per molto tempo il nome dei Bennet, dopo che la sorella maggiore vi avrà rinunziato, e il consorte da lei prescelto può essere considerato a buon diritto uno dei personaggi più illustri di queste contrade. Riesci a immaginarti, Lizia, che si vuole alludere? Questo giovin signore dotato in modo eccezionale di tutto ciò che cuore mortale può augurarsi, splendide tenute, nobile schiatta e vasta influenza. Tuttavia, adonta di tutte queste attrattive, mi si è lecito a mettere in guardia lei e la mia cugina Elizabeth contro i guai, in cui potrebbero incorrere nell'accettare troppo avventatamente le proposte di questo signore, delle quali è naturale loro saranno incline ad avvalersi senza indugio. Hai un'idea, Lizia, chi sia questo signore? Ma ecco che lo spiega lui. Il motivo che ho per prevenirla è il seguente. Abbiamo ragione di credere che sua zia, Lady Catherine de Bourgh, non veda di buon occhio questo matrimonio. Vedi che si tratta del signor Darcy, né più né meno. Ebbene, Lizia, ti ho fatto stupire, sì o no? Avrebbero potuto lui o Lucas andare a scovare un altro individuo in tutta la cerchia delle nostre conoscenze, il cui nome bastasse a sbugiardaglio con maggiore efficacia. Proprio il signor Darcy, che non guarda mai una donna se non per criticarla e che probabilmente non ti ha mai guardata in vita sua. È straordinario. Elizabeth si sforzò di fare con l'allegria del padre, ma riuscì appena ad abbozzare un mezzo sorriso. Mai le sue facezze le erano riuscite così poco gradite. Non ti diverte? Beh, altro che, la prego, continui a leggere. Dopo aver ventilato la possibilità di quest'unione a sua signoria nella serata di ieri, subito con la consueta degnazione, Ella ci ha espressi i suoi sentimenti in proposito, e fu allora che apparve lampante che a causa di alcune obiezioni sulla famiglia di mia cugina, Ella non avrebbe mai dato il proprio consenso a quello sciagurato matrimonio, per usarle le sue parole. Ho ritenuto mio dovere informare tempestivamente mia cugina, affinché esse e il suo nobile pretendente badino a ciò che si fanno e non si accingono a un matrimonio che non è stato convenientemente sanzionato. Aggiunge, inoltre, signor Collins, sono sinceramente lieto che la triste faccenda di mia cugina Lydia sia stata così opportunamente messa in tacere, e mi dolgo soltanto che ovunque si sappia che sono vissuti insieme prima di celebrare le nozze. Non devo tuttavia trascurare i doveri imposti dalla mia posizione, ossia trattenermi dal dichiarare il mio stupore, nello dire che lei ha ricevuto in casa la giovine coppia subito dopo la cerimonia. È stato un incoraggiamento al vizio, e se fossi stato io il rettore di Lomborn mi sarei strenuamente opposto. Senza dubbio, da buon cristiano, Ella doveva perdonare loro, ma non avrebbe mai dovuto ammetterli alla sua vista o permettere che in sua presenza si facessero i loro nomi. Questo è il suo concetto di perdono cristiano? Il resto della lettera si riferisce soltanto allo stato della sua cara Charlotte e alla loro attesa di un giovane virgulto. Ma Lizzi, non hai l'aria di divertirti molto? Non vorrei fare la pulzella che si indigna di uno stolto pettegolezzo, eh? A che scopo viviamo, se non per divertire il nostro prossimo e ridere la nostra volta alle sue spalle. Oh, esclamò Elizabeth, mi diverto un mondo, ma è tutto così strano. Appunto per questo è divertente. Se avessero preso di mira un altro non sarebbe stato nulla, ma la sua completa indifferenza e la tua non dissimulata antipatia rendono la cosa così piacevolmente assurda. Sebbene io detesti lo scrivere, non vorrei rinunziare a corrispondere col signor Collins per tutto l'oro del mondo. Che dico? Quando leggo una delle sue missive, non posso fare meno di antipolo persino a Wickham per quanto alto sia il concetto che ho dell'impudenza e dell'ipocrisia di mio genero. Ma dimmi Lizzi, che cosa ha detto Lady Catherine di questa notizia? È venuta a trovarti per rifiutare il suo consenso? A questa domanda sua figlia rispose soltanto con una risata e poiché era stata fatta senza il minimo sospetto, non si perse d'animo neppure sentendogliela ripetere. Mai Elisabeth si era trovata tanto a mal partito nel far apparire i propri sentimenti diversi da quello che erano. Era necessario ridere quando avrebbe preferito piangere. Il babbo l'aveva profondamente mortificata dicendole quel che le aveva detto dell'indifferenza del giovane darsi ed ella non sempre far altro che meravigliarsi di tale mancanza di perspicacia o temere che forse invece di avere il babbo intuito troppo poco fosse stata lei a far galopare troppo la fantasia. Capitolo 58 Invece di ricevere dall'amico quella lettera di scuse che Elisabeth e mezzo l'aspettava, il signor Bingley riuscì a farsi accompagnare a Lombord a darsi i pochi giorni dopo la visita di Lady Catherine. I giovani giunsero di buon mattino e ancora prima che la signora avesse trovato il tempo di raccontare della visita di sua zia, come Elisabeth aveva per un attimo paventato, Bingley, che voleva restare solo con Jane, propose di uscire a fare una passeggiata. Gli altri furono d'accordo. La signora Bennet non era avvezza a camminare, Mary non aveva mai tempo da perdere, ma gli altri cinque si avviarono tutti insieme. Bingley e Jane tuttavia si lasciarono tosto sorpassare dagli altri, rimasero indietro un bel tratto mentre Elisabeth, Catherine e Darcy dovevano intrattenersi a vicenda. Parlavano tutti pochissimo, Catherine aveva troppa soggezione di lui per parlare. Elisabeth stava prendendo dentro di sé una disperata risoluzione ed egli forse stava facendo altrettanto. Si diressero verso Villa Lucas perché Catherine desiderava far visita a Mary e poiché Elisabeth non ritene opportuno che tutti vi partecipassero, quando Catherine li lasciò si fece coraggio a proseguire con lui solo. Era questo il momento di mandare ad effetto la sua decisione e fin tanto che la sosteneva il coraggio, gli disse. Sono una grande egoista, signor Darcy, e per il bisogno che ho di recar sollievo all'animo mio non mi preoccupo di quanto io posso offendere il suo. Non so trattenermi da ringraziarla per la sua bontà, senza precedenti, verso la mia sciagurata sorella. Da quando l'ho saputo ho sentito vivo l'impulso di palisare la mia profonda gratitudine. Se la cosa fosse nota al resto della mia famiglia, non avrei soltanto la mia riconoscenza da esprimerle. Mi duele, mi duele infinitamente, con tonno di commossa sorpresa, rispose Darcy, che lei sia stata informata di una cosa che, messe in una falsa luce, può essere stata per lei causa di disagio. Non credo che ci si potesse fidare così poco della signora Gardiner. Non deve farne rimprovero a mia zia. O in primo tempo la sventatezza dell'idea a lasciar trappelare che lei aveva avuto parte nella nota faccenda, e naturalmente non ebbe più requie finché non riuscì a sapere il resto. Permette che a nome di tutta la mia famiglia io le rinnovi il ringraziamento più sincero per la generosa pietà che le indusse a sobbarcarsi a tante noie e a tante umiliazioni per giungere a scoprire quei due. Se proprio vuole ringraziarmi, mi ringrazia allora soltanto per sé? Non tenterò di negare che il desiderio di fare cosa grata a lei non abbia aggiunto forza alle altre riflessioni che mi hanno guidato a quel passo. Ma la sua famiglia non mi deve nulla. Nonostante il mio rispetto per loro, io so di aver pensato soltanto a lei. Elisabeth era troppo imbarazzata per proferir parola. Dopo un breve silenzio, il suo compagno soggiunse. Lei è troppo generosa per prendersi gioco di me. Se i suoi sentimenti sono ancora quelli che erano lo scorso aprile, me lo dica subito. Il mio affetto, i miei disideri sono immutati, ma una sola parola da parte sua basterà farmi tacere per sempre su questo argomento. Elisabeth, che provava ora più che semplice imbarazzo e commozione per la situazione di lui, gli sforzò allora di parlare e subito, quantunque un po' a fatica, gli fece comprendere che i suoi sentimenti erano così radicalmente mutati dal tempo al quale gli alludeva da farle accogliere con gioia e riconoscenza alle sue attuali dichiarazioni. La felicità prodotta da questa risposta, fu quale forse Darsi non aveva mai provata, ed egli si espresse in quel frangente con tutto il sentimento e il calore con cui può esprimersi un uomo innamoratissimo. Se Elisabeth avesse avuto il coraggio di guardarlo negli occhi, avrebbe visto quanto quell'espressione di intima felicità soffusa in volto gli si confaceva. Tuttavia, anche se non poteva guardare, poteva ascoltare, ed egli le rivelò tali sentimenti che, dimostrandole ciò che ella era per lui, rendevano il suo affetto sempre più prezioso. Continuarono a camminare senza sapere in quale direzione. Verrà troppo da pensare, da sentire, da dire per porre mente ad altro. Elisabeth venne tosto a sapere che, della loro buona intesa di ora, dovevano ringraziare proprio la zia che era passata da lui a Londra nel viaggio di ritorno per raccontare del suo viaggio a Longbourn, dello scopo di esso e della sua conversazione con lei. Si era indugiata a sottolineare ogni espressione di Elisabeth che, secondo sua signoria, denotava particolare capabilità e sicurezza di sé, nella piena fiducia che, un si fatto racconto, l'avrebbe aiutata nell'intento di ottenere dal nipote quella promessa che lei si era rifiutata di farle. Ma, sfortunatamente per sua signoria, l'effetto era stato precisamente l'opposto. Mi ha insegnato a sperare. Come mai mi ero concesso di sperare prima? Conoscevo abbastanza il suo carattere, per essere sicuro che, se fosse stata assolutamente irrevocabilmente decisa contro di me, l'avrebbe messo con tutta sincerità e franchezza persino con Lady Catherine. Elisabeth arrossì e rispose ridendo. Appunto, conosci abbastanza la mia franchezza per ritenermene capace. Dopo averle insultata in modo così abominevole a viso aperto, non avrei certo avuto scrupoli ad ingiurarla dietro le spalle e coi suoi parenti. Che ha detto lei di me, che io non abbia meritato. Sebbene le sue accuse avessero un fondamento errato, partissero da premesse sbagliate, il mio contegno con lei in quel tempo aveva meritato il biasimo più severo, più imperdonabile. Non posso pensarci senza in un ridire. Non staremo a discutere a chi spetta il maggior biasimo per quel che accade quella sera, si è esaminata ben dappresso. La condotta di entrambi non risulterà irreprensibile. Ma voglio sperare che da allora abbiamo fatto tutti e due qualche progresso in tema di buone creanze. Io non riesco così facilmente a riconciliarmi con me stesso. Il ricordo di ciò che le dissi allora, del mio contegno, dei miei modi, le mie espressioni durante tutto il colloquio mi è ora, e lo è da molti mesi, inesprimibilmente penoso. Non dimenticherò mai il suo rimprovero così appropriato, se si fosse comportato più da gentill'uomo. Queste parole furono le sue. E non sa, non può immaginare quanto mi abbiano torturato, sebbene ci sia voluto del tempo, lo confesso, prima che fosse abbastanza ragionevole da giustificarle. Ero ben lungi da credere che le avrebbero fatto tanta impressione. Non avevo la minima idea che potessero penetrare così profondamente. Lo credo, lei mi riteneva allora privo di qualsiasi buon sentimento, ne sono certo, non dimenticherò mai il suo viso alterato, quando mi disse che in qualunque modo mi fossi rivolto a lei non l'avrei mai indotta ad accettarmi. Oh, non ripeta quel che dissi allora, con questi ricordi non vanno rievocati. Le assicuro che da molto tempo io stessa ne provo graditissima vergogna. Darsi, accennò alla sua lettera. Le servì, richiese, le servì subito a farle avere di me un'opinione migliore, credette leggendola quanto conteneva. Elisabeth gli spiegò quale effetto avesse prodotto su di lei e come a poco a poco tutti i suoi antichi pregiudizi fossero caduti. Sapevo che quanto le scrissi le avrebbe fatto male, ma era necessario. Spero che abbia distrutto quella lettera. C'era una parte, specialmente all'inizio, che non ridirei se lei la leggesse. Mi ricordo di certe espressioni che se mi odiasse la giustificherebbero. La lettera verrà certo bruciata, se lo ritieni indispensabile perché io le conservi il mio affetto, però nonostante si abbia entrambi motivo di ritenere non del tutto immutabili le mie opinioni, spero di non cambiarle con tanta facilità come ciò sembra implicare. Quando scrissi quella lettera, credevo di essere perfettamente calmo e tranquillo, ma subito dopo mi cominci ad averla stesa in uno stato di tremenda amarezza. Cominciava forse in tono amaro, ma non era altrettanto amaro alla fine. La chiusa era tutta bontà. I sentimenti di chi la scrisse e di chi la ricevette sono ormai così radicalmente mutati da allora che bisogna dimenticare ogni spiacevole circostanza che vi sia connessa. E devi imparare un po' della mia filosofia, rievocare del passato soltanto ciò che fa piacere. Non mi sento di apprezzare una filosofia di podesto genere. Per lei le rievocazioni del passato devono essere così assolutamente scevre di rimprovero che il diletto che ne ne deriva non nasce già dalla filosofia, bensì ciò che va al meglio dall'innocenza. Ma per me non è così. Nel mio ricordo si insinua anche di penoso che non può, non deve essere represso. Sono stato un egoista tutta la vita in pratica, se non in teoria. Da bambino mi insegnarono quello che è giusto e buono, ma non mi insegnarono a correggere il mio carattere. Mi diedero sani principi, ma mi permisero di seguirli secondo il mio orgoglio e la mia presunzione. Purtroppo nella mia qualità di unico maschio e per molti anni unico figlio, fui viziato dai miei genitori, i quali benché buoni di per sé stessi, mio padre in specie era tutto quel che si può immaginare di benevole e affettuoso, mi permisero, mi incoraggiarono, quasi mi insegnarono ad essere egoista e presuntuoso, a non occuparmi di nessuno fuori della mia cerca familiare, a considerare con disprezzo tutto il resto dell'umanità, a desiderare quantomeno di considerare con disprezzo il senso dell'altrui dignità in confronto alla mia. Tale fui io, dagli otto ai ventott'anni, e così sarei forse rimasto ancora se non fosse stato per te, mia bella, mia dilettissima Elisabeth. Di che cosa non ti sono io debitore? Tu mi hai dato una lezione, una dura lezione, in vero da principio, ma quanto mai salutare? Da te sono stato umiliato come mi meritavo, veni da te senza il minimo dubbio sul come mi avresti accolto. Tu mi hai dimostrato invece quanto fosse vana la mia pretesa di piacere a una donna degna di essere amata. Eri dunque persuaso allora che me ne sarei compiaciuta? Lo ero davvero? Che ne pensi della mia vanità? Credevo che tu desiderassi, che aspettassi le mie preofferte. Avrò certamente avuto torto nella forma, ma non nell'intenzione te lo assicuro. Non ho mai cercato di ingannarti, ma accade spesso che il mio temperamento mi consigli male. Come deve avermi abburrita per quella sera. Abburrirti! Forse sulle prime sarò stata in colera, ma subito il mio sdegno cominciò a rivolgersi contro chi lo meritava. Ho quasi paura di chiederti che cosa pensasti di me quando ci ritrovamo a Pemberley. Mi biasimasti per essere venuta? No, anzi, non provai altro che sorpresa. La tua sorpresa non potrà essere più grande di quella che provai io nel constatare che ti eri accorto di me. La coscienza mi diceva che non meritavo delle speciali cortesie e confesso che non mi aspettavo di ricevere più di quanto mi fosse dovuto. Il mio scopo, allora, era di provarti con tutte le premure di cui ero capace, che non ero così abieto da serbarti rancore per il passato e speravo di ottenere il tuo perdono, di migliorare la tua opinione col dimostrarti che i tuoi rimproveri avevano portato frutto. Quando poi abbiano incominciato a insinuarsi altri desideri, non te lo saprei dire, ma credo che fu circa mezz'ora dopo averti veduta. Poi, e disse della gioia che Giorgiana aveva provato nel conoscerla e del disappunto che le aveva recato all'improvvisa interruzione di quella relazione, e poiché era naturale passare da questo alla causa di quell'interruzione, Elisabeth venne a sapere che ancora prima di lasciarla a Locanda, egli aveva maturato dentro di sé il proposito di partire da Derbshire per seguirla nelle ricerche della sorella, e che secolà aveva potuto apparirle preoccupato e meditabondo, ciò era derivato unicamente dall'intima lotta sostenuta per tradurre in atto un simile progetto. Elisabeth gli espresse nuovamente la sua gratitudine, ma l'argomento era per entrambi troppo penoso per insistervi.